Ciao a tutti caciotti e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Fab the Beast, questo è l'episodio 46 Ciao a tutti, ciao a tutti Eh, sì, sì, non è che io ora, cioè, non è che io ora, eh, ho capito, ho capito e hanno capito pure loro Eh, insomma, eh, non che io mi ricordi, eh, ma che cazzo mi fai parlare? No, che ora non lo dico più Cosa? Che fappi Ok Non ho capito se era una specie di pianto o un urletto gay Ma forse era un pianto gay fatto urlato, non lo so Comunque, il sistema di fappazze varie, quello là che dovrebbe darci bezzinfinite non funziona Dove sei? Eh, sto fappando Eh, vabbè, quello l'avevo già detto io Vieni fuori Vieni Vabbè, giustamente sto fappando, aspetta eh, sto mettendo a posto un po' di cose My little pony, my little pony Ogni volta che vedi una prateria C'è una parte dentro di me che dice di fare My little pony C'è le voci che ti... Pony Ti urlano di fare le cose No, in realtà è proprio un pony che me lo dice Allora, non funziona, uno, non funzionava perché l'altro giorno sono entrato ed era tutto fermato, tutto fermo Perché, eh, come vedi, Brent, ah, vabbè, sto registrando io, cazzefrega Eh, come vedete ragazzi, qui, spiego un attimo il Pulverizer Il Pulverizer, eh, della Factorization, se non erro È una... è praticamente un macchinario che va a Mega Minecraft Joule Cioè va con l'energia di Buildcraft Eh, può accettare un input e due output Due output che possono andare, eh, insieme o separati Quindi io posso qui nella configurazione mettere diversi colori Potrei mettere qui un rosso, vedete qua il rosso è arancione Qua giallo Se poi qua ci metto tipo rosso Gli oggetti che vanno qua dentro vengono outputati Cioè vengono sputati fuori da una parte Quelli gialli da un'altra In questo caso da, eh, sotto dovrebbe essere Etentral Sulfur In questo caso, eh, eh, un residuo della, eh, produzione di blades All'interno di un Pulverizer, eh, è, eh, lo zolfo E, eh, lo zolfo, quando, eh, qui non era arancione Rimaneva qui fermo Una volta arrivato a 64, il Pulverizer si blocca Perché lui dice No, guarda, c'è una possibilità scarsa che mi venga lo zolfo Però lì è pieno Se mi esce, io dove lo metto? Me lo metto in culo E lui ha detto No, allora mi fermo E infatti, eh, mettendo l'assi è sbloccato E ora abbiamo miliardi di sulfur Che tra l'altro non so nemmeno che cosa si possa usare Per fare gunpowder Perfetto, l'abbiamo già visto nello scorso episodio Allora Abbiamo tanti blades powder Il problema è che è finita la minimum stone Quindi dovremmo creare tipo 3 o 4 da mettere lì dentro Eppure di più Vabbè Oppure, oppure potremmo fare una cosa del tipo Ora, questa è magari un po' più complicata Tartarughe Che capiscono se il sistema sta andando E se non sta andando Verificano se c'è la presenza di una minimum stone all'interno della cesta Se è presente Danno un messaggio di errore ad uno schermo Che imposteremo da qualche parte Altrimenti Vanno in un mob spawner Ammazzano Magari Vanno in un mob spawner In cui abbiamo Una produzione di minimum stone Ne prendono una Magari anche più di una E la mettono nella cesta Che te ne pare? Che è tipo fantascienza Che è? No, 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 si può fare Io sto craftando le minimum stone Dimmi se Eh, sì, vai, vai Craftane anche 7 o 8 No, non puoi Non abbiamo abbastanza Eh, no, lasciarmi un film Eh, vieni a dormire Vieni a dormire Oh, vieni Vieni Oh, sì Sai che Sì Lo sapevi? Ah, lo sapevi? Sì, sì Ah, allora, ok Hanno usato la porta Un secondo Ancora registrando Posso dirvi delle cose epiche Che lui non sa Che non potrà mai sapere Ah, sta qua dentro Tutta la roba elettronica Che valeva 4 mila milioni di euro Rieccomi Ok Cosa hai detto 4 milioni di euro? Che c'ho nel comodino Del mio letto Tipo il diamond drill E altre cose Ah, proprio Che valgono 4 milioni di euro Non proprio Ma ok Beh, proprio sì No, proprio no Eh, come non riusciamo a farne solo una Di minimum stone Va bene, va bene Giusto per Va bene Va bene Eh, poi Eh, ho fatto delle ricerche Ricordate che Negli ultimi episodi Sarà caduto il problema Di come fare A scegliere l'input L'output, scusate Per la porta delle api Eh, sono andato sulla Eh, ho cercato insomma Su internet Non mi ricordo se sulla wiki Vabbè Su una wiki Ho scoperto che esistono i bundled Il bundled output Quindi tu puoi fare Eh, una cosa molto figa Che è Settare Eh L'output Cioè True o false Che cazzo? Ah, io ho crashed Maffacca No, no Ho proprio disloggato Ah, gg Eh Puoi fare un set output Ma non globale Solo su un certo colore Ora, per chi non lo sapesse Ecco, me l'ho già preparato l'altro giorno Ci sono gli insulated wire Che sono dei cavi di red power Che vengono per l'appunto Eh, diciamo Coperti Vengono Vengono appunto Ora, dopo essere venuti Vengono anche Ricoperti da un colore Che scegliamo noi Tramite della lana Bianco Eh, naturalmente il primo è bianco Per ovvi motivi Insomma, logici È un sillogismo No, se uno è venuto Eh, ok, basta Abbiamo Il bianco L'arancione Magenta Giallo Eh, sì, giallo Azzurro Giallo, verde E così via Sono 16 colori Vero? 3, 6, 9 12 12 Diciamo 16 perché non so Contare No, vabbè 3, 6, 9 12 13 14 Sì, 16 So contare Eh, eh Come funziona? Qual è il codice che li identifica? 1 2 4 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 9000 Non lo so Insomma Un po' come la RAM, no? La potenza del 2 Sì Eh, insomma La potenza del 2 2 alla 1 2 alla 2 E così Io qua ho usato i colori che avevo in casa Vieni a vedere Ho fatto delle modifiche Questo è il bundled cable Perché non si collega O che cazzo stai facendo? The fuck? Che cazzo Ah, forse perché c'è questo Che cazzata però Hm Adesso devo farlo così Dei spostare più indietro Non, no, 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 no Ho rotto un blocco là sotto L'ho messo lì Ho messo bianco Che come abbiamo detto è 1 Arancione Che è 2 Giallo e rosso, giallo dovrebbe essere 4, 4, 16, 30, 32 E il rosso invece è uno tipo 16.000 qualcosa, quindi Ma comunque ci sono sui wiki, sulle wiki tutti i dati Quindi io potrei andare qui e fare tipo Redstone, eh sì, vaffanculo Redstone set bundled output Era così? Non me lo sono scritto Allora bisogna comunque mettere il side che in questo caso sarà bottom Culo, sì Poi non mi ricordo se prima il numero e poi true, penso di sì Va bene, noi ci mettiamo 1, true String number Ah sì sì sì, ora mi ricordo Ora dovrebbe aver dato l'impulso Infatti l'ha dato, gg Ora se io lo faccio nuovo dovrebbe farlo ancora Invece no, why not? Cioè se io prego il pulsante che succede? Ah ancora niente Perché non... Io l'ho fatto perché... Non penso che io debba resettarlo ogni volta Invece sembra di sì, devo resettarlo ogni volta Che palle Per resettarlo basta scriverci 0 E lui risetta tutto Ora se faccio di nuovo 1 Resettami tutto Eh, uno lo fa Quindi ora sarà tutto una questione di programming Magari ora nel prossimo episodio di Vrenti Io programmo e nel prossimo mio Oppure lo farò off camera Nel prossimo mio Lo spiego per bene riga per riga So che voi piace, vero? Vero? No Però adesso dovremmo anche farlo andare su Infatti l'arancione sarebbe 2 GG Facciamo 0 2 0 2 Ecco Ora è normale Vabbè questo era dietro Solo per vedere se funzionava anche col top Ma l'avevo già mostrato in un video Ok queste sono tutte le modifiche che ho fatto off camera Mi sembra Oh Dio Cosa? Eh? Ci sta sparando fuori le blaze road Da dove? Perché Oddio Non funziona sto coso Guarda Perché è pieno Cosa è pieno? Pulverizer si riempie troppo Ah perché c'è troppa energia E no c'è troppa poca energia E c'è troppa poca energia E no aspetta No 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 ma No no ma è solo un problema di Che era vuoto No no era solo un problema che era vuoto Perché se Io sono stato qui tipo 10 minuti A vedere se si bloccava E non si bloccava Perché comunque c'era già una risorsa di energia Ora che invece era spento Non riusciva più a farlo Ora devi aspettare che riprenda Un po' di ritmo Comunque ci hanno detto nei commenti Che mettendo le due assieme Di sterling engine Uno puntato verso l'altro Si accumula l'energia Quindi potremmo anche fare una cosa Tipo ne mettiamo uno qua in alto L'abbiamo già uno stile Eccolo Eh dammelo Non lo voglio Scherzavo Così Ah no mi serve una morenge Che c'ha Ecco La leva ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Eh no ma finchè non si riempie Ma finchè non si riempie E poi Ecco Comunque l'energia ora si sta trasferendo E infatti ne abbiamo sempre di meno The fuck Perché Aspetta Eh appunto Vediamo Comunque Ah beh Si ne sta cuocendo uno Aspetta Te lo mettiamo tutte qua 160 Ma quanto ne produce Scusa Ah beh Mi fai conto che il primo Sì non ancora di scaldare Infatti Infatti Elite scende rapidamente Troppo rapidamente Why Cosa Elite Forse devono Ah no ecco Questo ora è verde Ah perché Elite si trasferisce In quello sotto Ah ok Ora ho capito Perché si accumula L'energia Perché il calore Dal primo Per la frizione Un po' come la cosa Che sta facendo Brent Si passa Al secondo motore Quindi il calore Aumenta E di conseguenza Aumenta anche la velocità Quindi La quantità Di energia Che trasmette Perché Per chi non sapesse Il principio Dei motori Di Buildcraft È che Quando colpiscono La parte terminale Della Oddio Infatti Questo Che verso era Non lo so Quando colpiscono Quindi Ne fa 160 In quanti Quanti secondi Puoi vedere Uno Due Tre Quattro Cinque Cinque secondi Io in cinque secondi Quanto ne produco Siamo più o meno Siamo più o meno In pratica In pratica Allora Allora Basta Metterlo Guarda Aspetta Si che cazzo fai Fai le montagne russe Di Distilling Engine No a sto punto Vediamo Se lo mette qua Ok ho anche spento il coso Sono epico Eh no Cioè se lo metti lì Questo dopo si ferma Perché non c'è una leva Che lo aziona Eh E se la leva La mettiamo da dietro Eh Si Eh no Come no Cioè si Ma è antiestetico Aspetta Ne mettiamo uno più potente Allora Vediamo Engine No potremmo usare Perché questo deve essere Totalmente Autosufficiente Capito Se no Se no Il combustone Engine Anche se penso Usi tipo il gas Però che ci penso Usa gli iron gear Penso che usi il gas Oppure usiamo Il blu elettrica Engine Intanto abbiamo qui vicino Una cosa Ah no Va bene Consuma troppa Poi di roba Dovemmo avere Un altro sistema Di energia Cos'è sei morto O stai pensando No sto pensando Ah strano Non funzionano Le Le leve addosso Alle cover Giusto Eh Si Sai che ti dico Secondo me funziona Ho fatto male i calcoli Mi sa Rimetti le blades Che hai preso Da qui Qui dentro Vabbè stanno tutte qua Tiè Se me ce la fa Dai solo il tempo Perché io ho controllato E avendo una piccola base Di energia Ce la faceva comunque Quindi Perché se uno vuole Attaccare qui Un altro Stirling Un altro Stirling Vabbè ma cosa fa Aziona questo Che alimenta quest'altro Che alimenta quest'altro What the fuck Eh si Eh vabbè Sarebbero sufficienti Vabbè ma così Sono già sufficienti Per un pelo Non ce la fanno Comunque Non è che cambia moltissimo Eh in teoria E qua già si sta scaricando Vabbè lasciamolo lì Andiamo a dormire Vabbè Vabbè dai Poi vediamo Bene Ok Ah poi stavo pensando No Una cosa epica Della towncraft Che si chiama È il niter Ah la lucetta lì Eh perché hai visto Che qua ci ho messo Questi blocchi Questi cubi Con le torce Eh ci vuole mettere Il niter Eh così si Eh però non così Svolazzanti Mai con una piccola cover sotto Tipo Fluttuante Perché così Sì ma tipo Che abbiamo gli spiriti In casa Eh appunto Ah poi dobbiamo fare La casa della towncraft Eh dove la facciamo Cioè più che Eh no no Aspetta ti ricordi C'eramo dungeon Ah gg vero Eh dobbiamo fare Il modo di trasportarci Adesso ci serve Perché Cioè basta mettere un generator Con le blaze road E ci abbiamo Troppa energia Eh il problema è che bisogna Renderlo completamente Autosufficiente Quel meccanismo E allora potremmo Fare una cosa del tipo Ehm Quel sistema Lo teniamo così Per uso personale Per avere delle blaze noi Ora prendiamo un paio di blaze E rifacciamo un sistema Magari anche off camera Senza rompere troppo le palle Ehm Che è un Una piccola stanzetta Con cui Settiamo il teletrasporto Sotto il teletrasporto Impostiamo tutto il sistema Però deve essere Ultra autosufficiente Quindi con un motore Della buildcraft Che sia in grado Di reggere Tutto il carico Magari anche più Di un pulverizer E i generatori Perché ci serve Tipo troppa energia Fai conto che Per ogni blocco Che è nell'inventario Ehm Sprechi più energia Ehm Quindi Diventa costoso Ma se no dai Costruiamo la parte Cosa Ehm 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 Sta casa della towncraft Vicino alle altre Che ne so Magari non c'è qualche blocco Figo della towncraft Tipo un blocco scuro Tutto towncraftoso Ehm C'è della Deluxe highcraft Però Della towncraft Non so Vabbè Sembra comunque magico No Ehm Sì Quindi quelli Deluxe highcraft Possiamo usare Ehm Però bisogna Bisogna andare a scavare Sai cosa Io devo impostare Di nuovo tartaruga Perché qua Comunque Eh Il problema È che bisogna creare Un mondo Per il mining A sto punto Perché Anche quello Eh 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 sì Dai Si può far così Ora qua A proposito Io qua Inizio a riempire Ma se craftassimo Tipo le MFSU Che si autoricarica Magari No Allora Perché il problema È questo Oppure Semplicemente Ci mettiamo A fare Dei solar panel Tipo Gli array Di solar panel Eh Eh Oh Eh È l'unico metro Per fare I teleport Fig Ben sufficienti Insomma Allora Intanto Io crafterei Tipo le MFSU Eh No ma chi era Ma chi è stato Cioè No scusa GG Ok No ma perché Che sta l'MFSU Scusa Che si attacca All'MFE Eh ma abbiamo Solo quundici diamanti Il mio tempo È scaduto GG Che così Utilizziamo il generator E le blaze road Perché se no tu bruci le blaze road Per non farci un cazzo Nel generator Per accumularne di più Perché ora li stiamo accumulando di più Comunque per questo episodio è tutto Io vi saluto Vi invito a lasciare un bel mi piace E a non iscrivervi al canale di Brent Io vi saluto Ciao Ciao a tutti